buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo mini video infrasettimanale oggi voglio mostrarvi un altro dei set dei di rossetti firmata makeup revolution e sono della collezione revolution pro questo set è nella colorazione pinks quindi tutti e cinque questi rossetti li troverete in un'unica confezione costano quando sono in offerta su pink panda 7 euro e 99 e quando sono a prezzo pieno 9 euro e 99 io li ho acquistati sul sito invece di notino ho trovato proprio il giorno dell'offerta e l'ho pagata 6 euro e 99 bellissimi questi dovrebbero essere quelli matt e ho preso l'altra volta scorsa anche quelli cremosi color nude diciamo bellissimi ve li faccio vedere adesso in dettaglio abbiamo questo color ciclamino che è qualcosa di meraviglioso meraviglioso guardate quest'altro color corallo direi no tipo geranio abbiamo questo rosa chiaro delicatissimo stupendo io sono colori che adoro durante l'estate bellissimi abbiamo questo fucsia intenso e poi guardate la meraviglia di questo color salmone e pensate che questi cinque rossetti li trovate tutti nella stessa confezione di questa linea non trovate solamente i fucsia trovate i nudi trovate quelli corallo trovate quelli aranciati trovate quelli pescati bellissimi ce ne sono veramente 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 tante e soprattutto sono confortevoli a lunga tenuta estremamente cremosi quindi veramente provate questi rossetti